di tutto lei non sa chi sono io la mia famiglia è un personaggio pubblico mia mamma e mio papà erano insegnanti elementari eravamo tre in casa per cui noi non abbiamo mai sguazzato nel loro si anche la mamma e il papà di Berlusconi le sono le storie dei milionari le sono tutte non ce ne fosse uno che è nato ricco mai c'avevano tutti i genitori poveri ma guardate anch'io c'avevo i genitori poveri e sono rimasto così così non mi lamento ma non ce l'ho noi oltre ancora eppure c'avevo i genitori insegnanti addirittura uguale ce l'avevano se lei vuol fare il clown lo faccia ma io sono un clown non sono un leader politico se Dio vuole posso solo dire questo a differenza sua io creo posti di lavoro a differenza sua i miei dipendenti non sono mai andati in casa integrazione e a differenza sua io pago i nostri dipendenti più della media